Ai regni non serve un altro conquistatore. Cambierai idea quando avrò preso il potere. Sono davvero stanco della tua ipocrisia. Redimiti, oppure sprofonda nella dannazione. Demone? Santa? Che cosa sei, Ashra? Un'anima stanca in cerca solo dell'assoluzione. Anch'io ho conosciuto le tenebre, ma poi mi sono pentita. Pentiti quanto vuoi, la mia coscienza è a posto. Il Darkat non mi rende un avversario da poco. Non ti permetterò di diffondere ancora il morbo. Hai una faccia orripilante come un Rognar. E tu invece hai una faccia che vorrei tanto scuogliare. Odori di sangue rappreso e oscure guerre. E questo dovrebbe spaventarti non poco. La medicina viltrumita potrebbe curarti. Che cosa sottintendi con la tua offerta? Il dominio viltrumita spezzerà l'universo. Solo stravolgendo il mondo si raggiunge la perfezione. La tua linea temporale è diversa da tutte le altre. Se credi di conoscermi, fidati. Ti sbagli. Se io controllassi il tempo, creerei un mondo migliore. La tua arroganza è senza fine, come la tua forza. Ho già affrontato un immortale prima. Allora sai già che io ti tormenterò in eterno. Io non mi inginocchio a nessuno, Omimen. Allora non mi resta che strapparti le gambe. Obedire a Treg ti rende un servo. Lo servo con orgoglio, in quanto figlio di viltrum. Il dominio viltrumita porta ordine e controllo. Due piaghe di cui nessuno ha bisogno. La resistenza è un atto insulso, e anche tu lo sei. Preferisco morire che essere sottomesso e oppresso. Un corso sulla gestione della rabbia ti sarebbe utile. Sparisci dalla mia vista o ti distruggo. Sai, assomiglia al padre che non ho mai avuto. Tu sei fragile. Mio figlio, invece, è invincibile. Non sei un vero guerriero. Sei un attore. Vuoi un vero guerriero? Eccolo che arriva. Non esiste nessun film su eroi come me. Ma certo, perché tu sei cattivo, bello. Non riusciresti a vedermi neanche se avessi ancora gli occhi. E allora io avverto ogni spostamento d'aria. Non è possibile che perda contro uno spadaccino cieco. Io essendo siamo più di quello che appare. Sei nel nuovo film di supereroi di Johnny? Sono qui per salvarvi, da voi stessi. Ti stanchi mai di vincere sempre al primo colpo? Forse stavolta sarà diverso. Mia sorella non rinuncerà mai al suo trono. Schiaccerò te, tua sorella e quel trono. Vuoi salvare il regno esterno? Arrenditi. E quindi consegnarlo alla tua tirannia? Che diritto hai di reclamare il potere? Ne ho più diritto di voi, insulsi poppanti. La tua tenacia mi riporta alla mente mia moglie. Anche lei vuole vederti morto come me. Vuoi che ti ricordino? Scrivi un libro. Buona idea. Racconterò a tutti come ti ho sconfitto. Stai cercando una degna sfida? Allora eccomi qui. Ah bene, Kung Lao. Dimostra chi sei. Povero arrogante. Stai per essere umiliato. Da un uomo con il mantello? No, non credo proprio. Secondo Madame Bo, tutti hanno un punto debole. Non ha mai incontrato un Viltrumita? Che cosa ne sa della giustizia a un aspirante despota? Abbastanza da darti una lezione. Preparati a servire un'autorità superiore. Io servo solamente l'imperatrice. Sun Do non intende riconoscere la tua autorità. E allora userò te per dare l'esempio. Coraggio, arrestami pure. Se ci riesci. Se non lo fossi, allora morirei provandoci. Non mi bevo la tua farsa su libertà e luce. Guarda che non siamo tutti dei bugiardi come lo sei tu. Che senso ha rinunciare al potere? Per creare un futuro di giustizia e di libertà. Per tutti gli dèi anziani, tu cosa sei? Qualcosa di molto simile a un dio. Tu avrai anche distrutto dei mondi, ma io ho cancellato intere linee temporali. Finalmente. Ecco una degna sfida. Sei contaminata. Chi mai si accoppierebbe con te? Sono io a non volere nessuno. Bastato! Il regno esterno è il più forte fra tutti. Bene. Lo distruggerò per mostrare il mio potere. Rifletti bene. Puoi ancora salvare il tuo impero. Meglio tagliarmi la gola piuttosto che inginocchiarmi a te. Sei alla presenza dell'imperatrice del regno esterno. E questo dovrebbe forse impressionarmi? Il sangue Viltrumita non è sul menù, Nitara. Non me ne andrò senza essermi nutrita. Cosa sei? Sei la ragazza di Damien Darkblood? Ho avuto alleati ben più strani. La tua gente ci ha condannati a morte. La decimazione è una manna per la genetica. Per noi Veterniani e gli umani sono un po' come per voi i maiali. Tutti voi non siete nulla in confronto ai Viltrumiti. Marshalman, ma sei tu? No, è molto più complicato di così. Avresti dovuto scaricare Debbie molti anni fa. Credimi sia rammollito. Chiudi il becco e fatti sotto. Cosa ci fa qui un me alternativo? Il nome Engstrom Levy. Ti dice qualche cosa? Non sei riuscito a conquistare la Terra, non è vero? È tutto sotto controllo. Pensa alla tua linea temporale. Per Mark sarò l'esempio che tu non sei mai stato. Non osare provarci. Dovresti saperlo. Da grandi poteri derivano... Basta, chiudi il becco. Vuoi uccidermi a colpi di banalità? Dovresti cercare la pace interiore. La pace non si cerca. Deve essere imposta. Pensaci. Quali vantaggi porterebbe la tua morte? Ispirerà le future generazioni ad opporsi a te. Perché non combatti per me, Raiden? Non servirò mai e poi mai un nemico della Terra. Fermo, ti prego, non colpirmi con l'acqua. Nessuno ti ha detto che io ho allagato un'intera città. A negare placherà la tua ira, Viltrumita. Posso non respirare per settimane. La mia magia è in grado di estrarre il tuo potere. Prima però prova a estrarre il mio pugno dalle tue costole. La tua ambizione è fin troppo grande. Disse l'arrogante conquistatore di universi. Sei solo un canelleccapiedi, non un soldato. Dici che sono un cane? Guarda come mordo. Pagherai per aver insultato il generale. Perché servire chi ha bisogno di te per le sue battaglie? Ho un legame di sangue con il generale Shao. Dovere? Onore? Hai quasi il mio rispetto? Dio al generale che il regno esterno è mio. Lui preferisce che gli porti la tua testa. Anche tu hai due volti? Proprio come me? Esatto, ma presto o tardi ogni maschera deve cadere. Non scambierò mai le mie catene con altre catene. Che ne dici di scambiarle con una bara? Puzzi più di una fogna. Quello che senti è il fetore della tua colpa. Hai mai affrontato un Viltrumita prima? E tu hai mai affrontato uno zaterrano mutaforma? Il potere assoluto ti ha infine corrotto. Il potere non corrompe, semmai sostiene. Sembri ragionevole. Arrenditi o morirai. Levati di mezzo. Rivendico questa linea temporale per l'impero di Viltrum. Preparati a bruciare per questa tua invasione. Affrontarmi a mani nude è un grave errore. Porta tutto il tuo arsenale. Non servirà. Non sono così idiota da credere a un ciarlatano. Tuttavia, tra simili ci si riconosce, vero? I cospiratori come te corrompono il cuore della civiltà. Vedo che non sei affatto disposto a cedere. È un peccato. Sappi che ti ho studiato. So che anche tu hai dei punti deboli. Ma non vivrai così a lungo da poterne approfittare. Noi due potremmo formare un'alleanza. Chi è onnipotente non cerca alleanze. Ti vedrai bene come manichino per allenarsi. Tu dovresti allenarti al rispetto. L'acciaio affina l'acciaio. Noi siamo uguali. Ma abbiamo una visione alquanto diversa. Quanto meno hai un'aria minacciosa. Sappi che il mio aspetto non mente. Ucciderti farà di me una leggenda. Ma se io ucciderò te, nessuno lo ricorderà. Dichiarami imperatore e risparmierò le tue figlie. Non usare mai le mie figlie per ricattarmi. Il mio impero sopravvive da millenni. Forse è il momento di cambiare regime. Hai più cuore di quanto lasci credere. Provvedo immediatamente a farti cambiare idea. Forse terrò te e le tue figlie come animali da compagnia. Animali? Per questo tu pagherai con la vita. Ho ripodiato il Linquay in nome della giustizia. Giustizia? Quanta stupida ipocresia da parte tua. Fammi indovinare. Tu uccidi a colpi di svapo? Prova a schiernirmi con i polmoni pieni di cenere. Lo Shirai Ryu non ti lascerà passare. Mi dispiace. Io vado dove mi pare. Perché non lanci un fumogeno e scappi? Io non fuggo di fronte al nemico. Il freddo non può fermarmi. Neanche nello spazio profondo. Tutti hanno un punto debole. E io scoprirò qual è il tuo. Ogni cosa congela. Congelerai anche tu. Io so resistere allo zero assoluto. Provaci. Il Linquay conquisterà tutti i regni. E allora non mi resta che farvi concorrenza. Ti colpirò così forte che piscerai ghiaccioli insanguinati. Una minaccia molto colorita ma ugualmente vana. Non ho alcun timore di morire per il regno esterno. Sei sicura? Il tuo cuore ha appena avuto un sussulto. Gli uomini come te pensano di poter prendere quello che vogliono. Io posso e lo farò. E non c'è niente in grado di fermarmi. Milina continuerà a vivere finché mi sarà utile. Finché io avrò fiato in corpo, tu non le farai del male. Perché insisti tanto a proteggere un mostro infetto? Per amore. Qualcosa di cui tu non sai nulla. Al prossimo episodio Grazie a tutti.